ok pronti per il nuovo video il copione c'è la luce la luce luce c'è telecamera accesa per i capelli per quelli non c'è nessuna speranza quello cos'è per aladino da aladino ciao aladino sono il tuo te stesso futuro che ti scrive dal passato sono tornato indietro nel tempo per cambiare il corso degli eventi ma ho fallito non sono riuscito a uccidere il nonno anzi alla fine sono diventato io tuo nonno rinuncia al video che stai per girare se lo farai genererai una serie di paradossi a catena che avranno un esito disastroso e culmineranno con la tua versione futuro alla deriva nel tempo io l'ho visto succedere nel futuro tienti lontano dalle macchine del tempo macchine del tempo questa sì che è un'idea e io che volevo girare un video su un vecchio cartone animato ciao mondo oggi parliamo di macchine del tempo ce ne sono tante con principi di funzionamento diversi e le sembianze più disparate ma ogni modello di macchina del tempo ha un intrinseco difetto di progettazione è impossibile realizzare la macchina del tempo perfetta che non abbia un malus che compensi il suo enorme potere deve essere una delle leggi che governa il nostro universo cominciamo dalla prima la macchina del tempo descritta nell'omonimo romanzo di wells l'antenata di tutte le macchine del tempo è un dispositivo che si muove assieme al proprio occupante nel tempo anziché nello spazio la macchina del tempo di wells ha una particolarità rispetto a quelle successive il trasferimento tra due diverse coordinate temporali non è istantaneo ma richiede del tempo funziona con una sorta di acceleratore temporale soggettivo il viaggiatore vede attorno a sé scorre il tempo in maniera accelerata mentre egli non visto da osservatori esterni attraversa le ere ma cosa succederebbe se al termine del viaggio la macchina dovesse materializzarsi in uno spazio già occupato da un altro corpo solido probabilmente un gran botto e un naufragio temporale inoltre un altro svantaggio è che la macchina si muove attraverso il tempo ma non attraverso lo spazio sarebbe bastato mettergli un paio di ruote trasformarla in una carrozza e risolvere il problema anche se se la macchina rimane ferma nello spazio se la terra ruota attorno al sole se il sistema solare se ne va a spasso per la galassia e se la galassia va a zonzo per l'universo perché la macchina del tempo non ricompare nel vuoto interstellare? in qualche modo il suo sistema di riferimento deve essere solidale con quello del pianeta e questo vale per parecchie macchine del tempo per esempio per la macchina del tempo più famosa di tutte quella a cui tutti pensano quando si parla di viaggi nel tempo quella che in realtà è un'automobile quella di ritorno al futuro film che conoscono anche i sassi un caldo zannato a destra e manca ma che presenta una delle macchine del tempo più ridicole e insulse che si siano mai viste perché trasformare una DeLorean in una macchina del tempo non è un'idea idiota no è una figata fotonica flusso canalizzatore tempo circuiti 1,21 gigawatt bontà divina che bello ritorno al futuro ma come ben sapete la DeLorean per funzionare deve raggiungere le 88 miglia orarie altrimenti rimane una comunissima automobile una comunissima automobile volante e non solo Michael J. Fox ma anche Will Smith in Man in Black 3 deve raggiungere una data velocità necessaria per poter viaggiare nel tempo e adesso proviamo all'indietro e questo cos'era? e da un classico all'altro Time and Relative Dimension in Space il TARDIS del Totoro non solo una macchina per viaggiare attraverso il tempo ma anche attraverso le dimensioni il frutto della tecnologia dei Time Lord il cui interno è ben più grande di quel che appare all'esterno ma che a causa di un malfunzionamento del circuito camaleonte può assumere solo l'aspetto di una cabina d'emergenza della polizia britannica quindi che voi vi troviate nell'antica Roma con Nerone sul pianeta Ascaro con Davros nel Medioevo tra dame e cavalieri o su Peladon assieme ai delegati della Federazione Galattica il vostro mezzo di trasporto avrà sempre le medesime sembianze e se viaggiare da un'epoca all'altra a bordo di una cabina telefonica vi sembra strano non lamentatevi vi ricordate The Day of the Tentacle? lì si viaggiava nel tempo a bordo di un cesso chimico per non parlare delle serie Time Boken della Tatsunoku no no, molto meglio il TARDIS sempre a proposito di forme strane in Seven Days la macchina del tempo si chiama Cronosfera e a rispetto del nome non è affatto una sfera è un icosaedro troncato un poliedro archimedeo a 32 facce composto da 20 esagoni e 12 pentagoni il suo difetto di fabbrica è che può andare solo indietro nel tempo e per un massimo di 7 giorni beh, è già qualcosa ancora? altre volte invece le macchine del tempo presentano dei limiti sul tipo di materiale che possono trasportare per esempio se usate la macchina del tempo del Dottor Destino come spiegato in Fantastic Four 19 non potete portare con voi materiale radioattivo se invece venite da un futuro in cui Skynet è riuscita ad attuare il giorno del giudizio dovrete rinunciare ai vestiti perché solo materiale organico può essere mandato indietro nel tempo e questo può avere anche dei risvolti positivi fermo sono qua per mandarti nel futuro questa cosa tra qualche istante si genererà una lacuna temporale che dovrai colmare per evitare una lacerazione del continuo e perché non ci vai tu nel futuro? non fare domande che possano far emergere buchi di sceneggiatura e adesso vai! dove l'ho rimasto? ah già Terminator sì, la macchina del tempo di Terminator ti spedisce nel passato nudo ma almeno tutto intero quella di Timeline oltre a farti un male cane ti sfasa le ossa, le vene e i nervi così che dopo una decina di viaggi il tuo corpo si ritrova tutto disallineato e pieno di microfratture inoltre hai un limite massimo di tempo in cui puoi restare nel passato prima di attivare il marker per il ritorno trascorso il quale rimani intrappolato in un altro tempo un problema molto simile a quello della macchina del tempo costruita dai professori Zapotec e Marlin con primari di Topolino per tornare nel proprio tempo i viaggiatori devono trovarsi esattamente nello stesso luogo del loro arrivo dopo 12, 24 o 36 ore Zapotec 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 Fermo! Sono qua per mandarti di nuovo questo vuol dire che è troppo tardi troppo presto non mi rimane altro che andare ancora più indietro nel tempo e uccidere il nonno per impedire la mia nascita devi aver usato la macchina del tempo dell'esercito delle 12 scimmie quella non è molto precisa a volte ti manda 9 anni prima della data di destinazione altre volte in mezzo alla prima guerra mondiale non sai mai quando ricompari un po' come per il dottor Samuel Beckett protagonista di Quantum Leap per poter viaggiare nel tempo egli deve far andare bene un evento del passato che è andato male deve correggere la storia prendendo il posto di persone a caso sostituendosi a loro e migliorando il destino degli altri finché un bel giorno decise di averne abbastanza e divenne capitano dell'Enterprise Enterprise che, ricordiamo, può diventare una comodissima macchina del tempo come mostrato nell'episodio della serie classica domani e ieri basta sfruttare l'effetto fionda di un pozzo gravitazionale a velocità superluminale l'effetto fionda esiste sul serio viene usato per mutare traiettorie e velocità di sonde e altri veicoli spaziali anche se fino ad oggi non sono stati registrati fenomeni di trasferimento temporale la manovra può essere eseguita anche da uno spargliero Klingon come mostrato nel quarto film della serie Rotta verso la Terra lo svantaggio sono le basse probabilità di sopravvivere ci si deve gettare a velocità curvatura in un sole o in un buco nero per andare indietro nel tempo mentre per andare avanti ci si deve allontanare proviamo ha funzionato alcune macchine del tempo hanno come limite il fatto che non mandano qualcuno nel futuro o nel passato ma prelevano un soggetto da un diverso orizzonte temporale trasportandolo nel presente è per esempio quello che succede in Free Jack in fuga dal futuro dove Alex Furlong viene prelevato poco prima di morire in un incidente e trasportato in un futuro distopico qui incontra Mick Jagger che gli dà la caccia affinché un riccone possa trasferirla propriamente nel suo corpo oppure nel figlio del tempo di Isaac Asimov e Robert Silverberg dove degli scienziati prelevano un uomo di Neandertal un bambino di Neandertal per poterlo studiare è sempre Isaac Asimov nella fine dell'eternità a descrivere un'organizzazione dedita a migliorare le sorti della razza umana apportando modifiche nelle diverse ere e alterandone la storia ma che, per qualche oscura ragione non riesce ad avere accesso ai secoli dal 70 millesimo al 150 millesimo i cosiddetti secoli nascosti a proposito di scienziati veri il fisico statunitense Frank Tipler ha teorizzato un modello di macchina del tempo che potrebbe però muoversi soltanto in un intervallo compreso tra la sua creazione e la sua distruzione questo spiegherebbe perché non è ancora arrivato nessuno dal futuro a consegnarci i progetti della macchina del tempo finalmente eccomi ho fatto naufragio attraverso diverse ere ma sono tornato e posso consegnarti i progetti della macchina del tempo tienili, sono su questa chiavetta USB grazie vado subito a costruirla ci vediamo dopo molto comodo anche il sistema per viaggiare nel tempo usato dal razziatore nemico di Vaperinik Paperinik Paperinik Zapotec il razziatore ha una macchina del tempo incorporata nel suo corpo di cyborg e può portarsela dietro in qualsiasi occasione certo se si separa dal suo acceleratore tachionico muore ma non si può avere tutto un altro grosso problema delle macchine del tempo spesso sottovalutato è costituito dalla necessaria manutenzione consideriamo la grande macchina di Epsilon 3 nella serie Babylon 5 se smette di funzionare correttamente per esempio per la morte del custode l'intero pianeta viene destabilizzato una manutenzione straordinaria comporta anche dei costi straordinari come per il progetto TikTok della serie Kronos sfida al passato il budget stanziato dal governo americano era talmente elevato che lo si voleva annullare e per evitare ciò il professor Durham pensò bene di testarlo su se stesso trovandosi a rimbalzare da un disastro storico all'altro cosa ci faccio ancora qua? dovrei essere nel 1889 maledizione una perturbazione della quarta dimensione mi sta impedendo di raggiungere le coordinate cronali di destinazione ma questo può essere causato soltanto dall'assenza di un mio io in qualche punto della storia devo andare indietro nel tempo e mandarmi avanti per impedire il collasso della realtà devo fermarmi dovessi anche uccidermi va bene riprendendo il discorso è sempre il governo americano in Time Cop Indagine dal futuro a monitorare i viaggi nel tempo e a istituire un corpo di guardia per evitarne gli abusi con questa tecnologia bisogna essere molto prudenti perché lo stesso corpo non può occupare due volte lo stesso spazio e se un oggetto o una persona dovesse entrare in contatto con il suo duplicato proveniente da un altro tempo beh non ve lo consiglio proprio lo stesso problema occorreva nei visitatori altre volte le macchine del tempo non permettono di muoversi a piacimento nel tempo ma mettono in collegamento due periodi storici prefissati per esempio come nel portale attraversato durante i pellegrinaggi di Terra Nova anche se penso che quel portale fosse in realtà uno dei gate presenti in Chrono Trigger certo che devi salvare la razza umana e la spedisci nel Cretaceo poco prima che un asteroide si schianti sulla Terra dando il via a un'era glaciale bravo 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 ecco ho finito di costruire la macchina ora posso tornare indietro nel tempo e uccidere Adolf Hitler appena nato e impedire così la seconda guerra mondiale certo le macchine del tempo non sono l'unico mezzo per viaggiare nel tempo esistono anche altri metodi come dei poteri particolari ma io ve li sconsiglio caldamente non portano mai nulla di buono davvero se avete dei poteri che vi fanno viaggiare nel tempo la vostra vita è destinata ad accorciarsi state molto attenti piuttosto trovate un kriptoniano cresciuto sulla Terra e riavvolgete il tempo facendogli invertire il senso di rotazione del pianeta e non voglio nemmeno contare i numerosi episodi involontari di viaggi nel tempo incidenti di laboratorio botte in testa rituali occulti anche un'acquazione nel cuore della notte o andare in bagno in un pub può spedirti in un punto imprecisato del continuo spazio temporale bene sicuramente mi sarò dimenticato qualche modello di macchina del tempo se dovesse venirvene in mente qualcuno voi tornate indietro nel tempo e ditemelo prima che io inizi a realizzare questo video così lo aggiungerò non riesco a fermarmi maledizione questo vuol dire che la mia missione è fallita non ho un istante da perdere devo tornare indietro nel tempo prima che il dopo diventi adesso ok io sono pronto andiamo prima di concludere il video volevo salutare e ringraziare i ragazzi del Raked Resident Evil Italian Cosplayer Team che lo scorso 2 febbraio mi hanno invitato a Roma al Vigamus per una giornata dedicata a Resident Evil e agli zombie grazie ragazzi mi sono divertito parecchio ed è stato un piacere conoscervi un ringraziamento particolare a Sirio che mi ha ospitato e senza il quale sarei stato costretto a dormire alla ghiaccio grazie mille e già che ci sono volevo menzionare una breve apparizione che ho fatto in un loro video e sta bene in camice bianco faccio una bella figura quindi vi saluto tutti vi ringrazio per aver visto il video mi scuso per l'attesa ma ho avuto problemi di tempo e alla prossima sto andando alla deriva